La Grecia occidentale è stata colpita da un uragano mediterraneo o Medicaid, un raro fenomeno meteorologico accompagnato da piogge torrenziali e raffiche violente, interruzioni di corrente, caduta di alberi da Zante a Cefalonia passando per Corfu. Le isole del Mar Ionio tra Italia e Grecia non sono state risparmiate. Due voli Ryanair programmati per atterrare sull'isola di Cefalonia hanno dovuto essere dirottati su Atene e i collegamenti marittimi da e per l'isola sono stati interrotti. Anche le isole di Itaca e Zante hanno subito interruzioni di corrente. La Grecia ha già subito un uragano nel 2018 che ha ucciso due persone sull'isola di Eubea. Nel 2017 le inondazioni hanno ucciso oltre 20 persone ad ovest di Atene, in alcune delle condizioni meteorologiche più gravi della recente storia greca.